Allora, questa mattina parleremo di diverse cose, abbiamo con noi due ospiti importanti, Allora, alla mia sinistra c'è Sara Capuzzo, che è la presidente della cooperativa Enostra, che è una cooperativa che è impegnata nel campo della produzione di energia rinnovabile ed etica, e ci spiegherà lei poi come è impostata questa cooperativa e perché è un'esperienza che può essere utile anche a noi che siamo impegnati nelle battaglie territoriali, ambientali e ovviamente nella battaglia per il clima e fuori dal fossile, che è un po' la campagna che ha promosso questa sessione di questa mattina, e Renato Di Nicola, che è dell'Abruzzo Social Forum, un attivista storico, che è stato tra i promotori anche del referendum sull'acqua pubblica, ci introdurrà un po' su cos'è la campagna, ma soprattutto su quelle che sono le scadenze importanti che stiamo affrontando, e un po' anche il senso del contributo che la campagna vuole dare al meeting. Intanto io voglio partire con dei ringraziamenti, intanto a tutte le attiviste e gli attivisti del Centro Sociale Rivolta, dei centri sociali del Nord-Est, del Climate Camp, che stanno dando vita a questo campeggio, a questa seconda edizione del campeggio di Venezia, del campeggio climatico, che stanno facendo un enorme lavoro, e se vedete le loro facce stanche, perché da giorni che si stanno facendo il mazzo per rendere tutto questo possibile, in una condizione che sappiamo quella che è, non era scontato che questa edizione si facesse, ma la si è voluta fermamente, e penso ci siamo riusciti. E voglio ringraziare comunque anche il Climate Camp per lo spazio che ha dato a questa sessione, sessione che ovviamente non era scontato, nel senso che i temi da approfondire e da dibattere sono tanti, sono stati tanti, e ci sarà ancora spazio questo pomeriggio, con l'assemblea sul reddito e domani ovviamente per il Climate Meeting. Bene, allora, io faccio una breve introduzione, diciamo, sul senso delle iniziative di questa mattina. Allora, chi ha promosso questa iniziativa fa parte di varie realtà territoriali, di comitati, di movimenti che sono impegnati nella difesa dei propri territori, delle grandi opere, e soprattutto, in particolare, quei comitati che si stanno occupando di contrastare quelle opere che hanno a che fare strettamente con l'estrazione e l'utilizzo dei combustibili fossili. Tra noi, insomma, ci sono, tutti conosciamo i NoTAP, i NoSnam, noi anche qui abbiamo fatto delle azioni contro Eni, contro Enel, quindi, diciamo, è una parte di un movimento più ampio di comitati territoriali che lottano contro le grandi opere e per la difesa e la tutela dell'ambiente e della salute, ma che si sta concentrando, è questo proprio il titolo della campagna, per il clima è fuori dal fossile, per contrastare in particolare queste opere, perché sappiamo quanto è urgente la transizione energetica, la transizione verso una società organizzata, quantomeno su un modello energetico diverso, oltre che sociale ed economico, chiaramente. Noi all'Assemblea di Civitavecchia abbiamo cominciato a dirci che era importante per noi trovare dei momenti, e questo è uno di quelli, in cui approfondire alcune tematiche. Voi sapete che se c'è un pregio che possiamo, come dire, dare ai comitati, è quello che in qualche modo noi siamo sempre in grado di andare dentro alle questioni, a fare inchiesta, a capire esattamente e anche da un punto di vista tecnico quali sono i problemi, e a riuscire a ricostruire delle narrazioni diverse rispetto a quelle che ci raccontano, e questa cosa è essenziale per le battaglie che facciamo, per il conflitto che è da sviluppare. Ebbene, questa cosa la dobbiamo però cominciare a fare in maniera più specifica, anche proprio sulla questione del fossile, insomma, di tutta la questione della tematica energetica, dell'approvvigionamento energetico, dell'utilizzo dei combustibili fossili. E quindi il ragionamento che noi cominciamo a fare è anche quello di dire, sì, le resistenze ambientali sono una parte importantissima della battaglia più ampia, che è la battaglia per il clima e per la transizione ecologica. Però è un pezzo del discorso, e ce lo siamo detti anche nei dibattiti e negli approfondimenti che si stanno svolgendo qui al campeggio, è un pezzo importante perché in tutto il mondo ci sono esperienze di lotta e di contrasto a quelli che sono i meccanismi estrattivisti del sistema capitalista. Pensiamo a tutte le lotte contro le miniere, contro gli oleodotti, contro, insomma, tantissime opere che sono proprio lo strumento con il quale, come dire, uno degli strumenti con il quale il sistema capitalista sia proprio a delle risorse naturali ed estrae valore. Però se noi non riusciamo a intrecciare con questo lavoro che è essenziale, perché chiaramente se noi non blocchiamo ci precludiamo la possibilità di avere un futuro, di avere un futuro diverso, no? Però nel frattempo se noi non riusciamo anche a costruire qualcosa di diverso, a non solo immaginare, ma a cominciare a costruire pezzi di quel mondo diverso, di quel mondo, di quell'alternativa che noi tanto invochiamo e di cui tanto parliamo, non riusciamo a fare quel salto di qualità che ci serve per trasformare davvero il mondo reale che ci circonda, che è quello che noi vogliamo fare. Perciò i due binari devono andare insieme, la lotta, la resistenza ambientale, ma anche la costruzione di spazi autonomi, di pratiche di alternativa e anche costruzioni di comunità solidali, fuori da quello che è il sistema di gerarchia e di potere che invece questo sistema vuole imporre a tutto il mondo. E quindi su questo sappiamo che a livello dei movimenti ci sono tanti spezzoni, tanti settori che si stanno impegnando su questi versanti, diciamo, parliamo di agricoltura, parliamo appunto anche di energia, di tante altre questioni, però spesso non riusciamo a intrecciare i fili e quindi oggi vuole essere un po' un contributo in questa direzione. Ora se noi parliamo di energia, sappiamo qual è la situazione, parliamo del nostro paese, il piano energia e clima ci prospetta questo sostanzialmente, non un'uscita dal fossile, ma semplicemente una transizione, tra l'altro anche molto lenta, dal carbone a un altro combustibile fossile che è il metano. Se vogliamo vederle da questo punto di vista, sappiamo che, ce lo siamo già detti, che la questione appunto è questa proposta che è stata fatta, come dire, dagli ultimi due governi che è stata anche approvata, è una proposta non solo vecchia ma anche pericolosa perché sappiamo quanto il metano sia un gas ad alto potere radiante, molto più della CO2 e quanto le emissioni fuggitive dagli impianti, dai siti di estrazione, eccetera, possono contribuire all'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera. Ma c'è un altro fatto che comunque la gestione del metano, come la gestione del carbone, del petrolio, è una gestione centralizzata, è una gestione monopolizzata da grandi gruppi, per esempio in Italia abbiamo preso Dimira Eni, abbiamo preso Dimira Enel, e quindi questo fatto ci parla anche del tema che il controllo dell'energia è un controllo, ancora una volta, in mano al sistema capitalista, al sistema estrattivista, a chi ha il monopolio dell'energia. Quindi anche qui c'è una contraddizione che dobbiamo andare a indagare meglio per provarla a scardinare. Il punto è che questa cosa la dobbiamo fare adesso perché l'IPCC, lo sapete con il rapporto 1.5, ci ha spiegato molto chiaramente che se vogliamo stare dentro a un grado e mezzo di riscaldamento globale, da qua al 2100, che è già tantissimo, perché ce lo stanno dicendo, guardate che a un grado e mezzo gli impatti saranno già devastanti, tutto quello che vediamo è mediamente dovuto a un riscaldamento della superficie terrestre a livello di circa un grado, poco più, quindi pensate voi, se arriviamo a due gradi, quello che è l'accordo di Parigi, gli impatti potrebbero essere devastanti, stante il fatto che attualmente la situazione, cioè per quelli che sono gli impegni dei vari stati, noi siamo a una prospettiva che varia da più 3, più 3, 5, più 4 gradi al 2100, quindi chiaramente siamo in una situazione drammatica e in un percorso che ci sta portando letteralmente verso il baratro. Allora, è chiaro che l'inversione va fatta ora e va fatta subito, però se da un lato dobbiamo agire sui governi, con le lotte, con le proteste, con tutto quello che hanno fatto i movimenti, il Friday for Future, eccetera, dobbiamo anche cominciare noi a costruire delle alternative. Ed è questo il tema di oggi, perché non è una questione che è di là da venire, e questo ce lo spiegherà bene Sara dopo, il punto è che ci sono già molte esperienze di democratizzazione della produzione di energia, cioè l'autoproduzione di energia e lo scambio di energia in maniera solidale tra le persone. Allora, fate conto, in Italia il settore residenziale e il settore terziare all'incirca cubano un terzo delle emissioni di gas a serra. Cosa succederebbe se noi cominciassimo a spostare, che ne so, quei 19-20 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi che ogni anno il governo dà alle multinazionali del fossile e altri distruttori dell'ambiente e dei territori, li spostassimo e cominciassimo a dare soldi a fondo perduto, quindi oltre anche il meccanismo del contributo con il 110, eccetera, ma proprio fare una politica mirata per rendere le abitazioni, gli edifici autonomi dal gas, autonomi dall'energia elettrica. Significherebbe abbattere nel giro di 10 anni, quello che ci chiede il PCC è da qua al 2030 almeno il 45% in meno. Bene, già il 30% in meno lo potremmo tenere così, ma avremmo anche dei benefici da un altro punto di vista, per esempio per tante famiglie, per tanti nuclei, questo significherebbe un recupero di reddito significativo e significherebbe soprattutto sganciarsi dal monopolio, che ne so, della Slam, di Terna, dell'Enel, dell'Eni, quindi significherebbe che noi cominciamo a contrastare questi colossi non solo sul piano della protesta, delle vertenze che dobbiamo continuare a fare, a portare avanti e a vincere, ma cominciamo a contrastarli anche sul piano di togliere il loro potere, cioè sottraendolo proprio dalla base. Questo è appunto il tema di oggi, è una questione sulla quale dobbiamo secondo noi cominciare a misurarci. Tanto è che dobbiamo cominciare a misurarci, un motivo in più è il fatto che in questo momento, proprio approfittando della pandemia, il governo e comunque tutto il sistema che noi conosciamo sta approfittando dello stato di emergenza, della situazione, per portare avanti tutta una serie di provvedimenti che vanno esattamente nella direzione opposta che noi chiediamo. Quindi non solo approvazione di opere, ma anche accentramento di potere, semplificazioni, e qui è il tema del decreto semplificazioni, stanno introducendo tutta una serie di norme che ci mettono ulteriormente in difficoltà sul lato delle vertenze. Ed è per questo che a maggior ragione noi dobbiamo cominciare a costruire un contropotere, uno spazio di autonomia che ci consente di aggirare questo problema anche da un altro versante. Di questo poi ci parlerà adesso Renato, al quale cedo subito la parola. Io credo che per mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo dovremmo aver terminato. Sara farà un approfondimento specifico sulle comunità energetiche, su come possiamo noi contribuire alla costruzione di queste comunità energetiche. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, qui il centro sociale rivolta che ci ospita ha un impianto fotovoltaico molto importante, e i compagni e i compagni del centro lo sanno perché gli rompo sempre le scatole, e dico ma invece che donarla a quella energia cominciamo a vedere se questo può essere già un punto di partenza di una costruzione di comunità energetica qua a Marghera, per esempio. chiaro ci sono dei problemi di contratto eccetera, ma insomma è una cosa sulla quale si potrebbe cominciare a ragionare, ma questo è per dire che quello di cui stiamo parlando non è così lontano, non è così difficile, è una cosa che possiamo cominciare a fare già da subito.